Ciao a tutti gucci e benvenuti da vostro Androling Cramatuno in questo nuovo video extra per Pokémon Rubino Mega Dopo averlo finito di giocare su YouTube o meglio aver smesso di registrare i video su YouTube L'ho ricominciato un po' di tempo fa, neanche tanto tempo fa Sto cercando di fare un god da catch and roll ma A parte questo Oggi vi farò vedere i codici segreti per scaricare il mio happy hour O happy hour Proprio con le hack Dunque si scarica tramite codice seriale Attenzione, se la console si spegne mentre stai ricevendo un dono tramite un codice seriale Non potrai più utilizzare lo stesso codice seriale per ricevere un altro dono Controllo il livello di carica nella batteria della console Non posso controllarlo Vuoi ricevere il dono? Si Vuoi collegare le carte internet? Certo Allora, il codice seriale da inserire è molto semplice e anche molto intuitivo Comunque sia, questo è anche un buon modo per... La versione più recente di questo software, davvero? Ah Ok Non lo sapevo Allora, come dicevo il codice seriale da inserire è molto molto semplice Ed è anche molto intuitivo Non so se va scritto grande o in piccolo Provo prima in grande perché l'ho letto in grande L'ho letto Comunque sia, se cercate su Bulbapiglia il codice c'è scritto qual è Non è che è tanto difficile Ah, ma te lo lascia per forza grande? Bene, meglio così Naturalmente è happy Eccolo, un ricchissimo Miao Questo Miao speciale conosce la mossa cocagna che raddoppia la ricompensa ottenuta alla fine della lotta Oh E questo forse ragazzi sarà un Miao speciale che si potrà usare su Alola Attenzione, questa teoria devo farla... devo dirla assai donna perché se no ci può un video almeno Mi godo un po' le sue teorie che poi sono sempre accurate Potrebbe essere comunque sia... potrebbe benissimo essere E andiamo anche subito a vederlo in battaglia perché no E inoltre mi sono messo il Pokédex nazionale su Pokémon Rubino Omega Senza aver... e sono la terza palestra senza neanche aver finito il gioco prima 26 ottobre Sì, va bene che l'offerta... l'offerta tra virgolette Questo dono va dal 20 agosto, cioè da ieri, fino al... fino a boh... non lo sanno neanche ora veramente Fino a quando hanno deciso di farlo E sono in dubbio anche loro della Game Freak quindi insomma... non so fino a quando durerà Potrebbe anche essere fino all'uscita di Pokémon Sole e Luna Potrebbe benissimo essere Quindi comunque sì, andiamo a vedere in battaglia questo Miao la mossa a cocagna Come funziona? Naturalmente non lo userò contro una lotta contro un allenatore E perché... non mi va di... di sfasciarmi il gioco in questa maniera Dunque devo arrivare a Brunifoglia Però sto praticamente dalla vecchietta che mi fa recuperare appunto la salute Quindi devo andare un pochino indietro un po' di backtracking E poi comunque sì andare a prendere Miao Questo Miao è disponibile solo in Europa E in Australia Quindi ragazzi è davvero speciale Qualcosa... Il treno passa intanto, va bene Qualcosa solo per gli europei Dunque lo spazio non ce l'ho perché sto allenando Sì ho scelto Mudkips perché a chi non piace Mudkip? Andiamo Dunque devo spostare giusto un attimo Sì qua ne ho da fare evolvere alcuni ancora Piano piano li faccio evolvere tutti Perché non mi è mai successo di arrivare alla terza palestra con 70 Pokémon catturati Eccolo qua Oh yeah Di lusso Vai Miao Guarda che c'è Moll Sì anche quando lanciavo il Pokémon in battaglia Non so perché però Facevano così Dunque ha la Cherish Ball Molto bene Cuccagna, Stredio, Morso e Bruciapelo Voglio fargli male Non lo so perché Ehi danni Cuccagna non l'ho mai vista Vediamo com'è Ah Ho capito Quindi serve solo per i soldi alla fine Ah ok Perché ho sottobruciapelo Ok va bene comunque sia No molto interessante Possibile che dia anche dei punti esperienza extra No Quindi Kooj Questo era il Miao Con Cuccagna Davvero una mossa particolare Non sapevo davvero esistesse Una mossa del genere Comunque sia Kooj Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Vi ricordo che il codice seriale è HAPPY Per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo Bye bye E mamma tocca tornare là Ah Brunifoglia Cuccagna No